Su le saracinesche in via Vittorio Veneto sono stati aperti alcuni nuovi negozi. Si tratta di spazi commerciali al piano terreno di Palazzo Bernascone, lo storico edificio per il quale lo scorso gennaio il noto guru della finanza Alfio Bardolla aveva lanciato l'operazione finanziaria di riqualificazione con il coinvolgimento di investitori nuovi. Un investimento di 3 milioni di euro complessivi che ha già dato i primi frutti perché infatti dalla scorsa settimana sono stati riaperti negozi al piano terreno e la vitalità del commercio in via Veneto e nel centro cittadino ne ha di certo beneficiato. Grazie. Grazie a tutti.